Grazie Grazie Ciao Io tanto so che la metto E' mica colpa mia Crash by Mattia Finalmente E' caduto Finalmente Bene raga questo è il primo crash Della giornata Mattia si è fatto Non si è fatto niente La bici non si è neanche fatta niente Il cerchione un po' storto Ma che è il cerchione di disco Guarda Questo cerchione tanto non si rompe Porca Non è storto Porca troia Raga gli son salito sulla bici Mi son cagato addosso Vabbè Importante che siamo tutti bene C'è Non lo segui No io conoscevo Io conoscevo Io conoscevo Io conoscevo Fabio Io conoscevo Fabio Fornirci di cibo E nulla ci vediamo dopo Vieni raga siamo al supermercato Ma free sugar è corn o senza? Eh allora con la rossa è corn Con la bici Questi qui sono tutti quelli che mi ha dato Gabriele per fargli ordinare qualche minca di cose Ma Beppe dov'è? Perché non è entrato? Io non so cosa prendi Sdissocio Però adesso ha sopra le bambini per soggi No Mi ha Vabbè io prendo i formaggi al crocantino Il formaggio al crocantino Vabbè io stop perché è inutile Bene ragazzi mi hanno appena fatto la spesina per mangiare Ecco E adesso siamo andati al parco qua a Ogiona Per mangiare appunto Quindi Facciamo la pausa Oh cazzo La pausa come si chiama? La pausa cibo Abbiamo appena finito di mangiare E adesso ritorniamo alle sette piste Decisioni di prima Esatto Fabio e delizia ci di una tua bellissima impennata E' incredibile La Beppe ha imparato Oh freder ha imparato a impennare bene Cioè non bene quanto noi però Comunque ragazzi purtroppo Domenica Siamo andati al bike storm E E purtroppo Non l'ho potuto registrare Perché non mi è ancora arrivata Cioè mi è arrivata Però Io ero già andato via Perché siamo andati mattina presto Vi lascio però Il link del video di Ale In descrizione Ma ci sono anch'io Che siamo andati insieme Io Ale e Mattia siamo andati Doveva venire anche qualcun'altro Però Era lì L'Ivigno Il motolino Farsi le belle discese E Botos E nulla Comunque il canale Ritornate più di prima ragazzi Goma e Mattia si accoppiano Oh bello Oh bello bene ragazzi stiamo tornando a casa perché beppe deve andarsene perché non è presto sono le 17 56 e io ho fatto un bel giretto perché diretto stamattina con l'abbiamo fatto più o meno principalmente abbiamo una sette piste a saltare e nulla sborone beppe dicesina tattica dicesina tattica che cazzo ogni volta ok stiamo tornando a casa che beppe stiamo tornando a casa che beppe deve caricare la cosa in macchina e se ne va la prossima arriva il manubrio non vi dico che manubrio è più le manopre nuove dovrei anche prendere la sella nuova perché questa è scomoda ed è distrutta e poi l'ultima cosa da sistemare sarebbero i cuscinetti adesso vedremo intanto vediamo la settimana prossima se mi arrivano le cose comunque ragazzi un piccolo aneddoto io tipo un mese fa ho dovuto cambiare il mozzo della Giant perché avevo spanato le viti del disco dove si affattano quindi ho dovuto cambiare tutto il mozzo il mozzo ce l'avevo già perché questa bici l'ho presa con i doppi cerchioni ecco qua non si vedrà un cazzo ma qua c'è l'altra cerchione ecco adesso vi faccio vedere il vecchio mozzo è questo qua praticamente oltre che questo è questo c'erano le viti spanate c'è anche un monopatto sì vabbè ho dovuto cambiare anche il perno della cassetta esatto la cassetta della bici perché sarebbe un po' di sfrutta che non si mangia tutti i denti c'è l'ol? sì stai ridendo l'aria ecco perché eravate così lenti non sgasare qua sotto dai tira il tuo braccio dentro bene ragazzi direi che il giro può finire qua dai 21 mi sono un uomo di me dalle games ok è tutto è bella è bella